Ragazzi siamo tornati in questo nuovo video Oggi farò vedere il mio account di Crash Royale Ci faremo delle partenze Per far vedere le mie carte E poi se vi volete unire un clan Vi potete unire Un attimo di carica Ok raga Allora Andiamo nel negozio Un agosto di giugno Vabbè ok Questo è qui E il mio clan Poi ragazzi prendiamo le missioni Vediamo No capanna di barbari Vabbè ragazzi siamo a rena 7 Dopo tutto questo Io ovviamente presso l'account Aspettate che ve lo faccio vedere Io ragazzi nel vecchio account Ero qui Quasi all'ospedante 2 Comunque ragazzi Questo è il mio deck Questo qua Come leggendario Lo secondi di ghiaccio E la tronco E la tronco Che ora forse la tronco La metteremo A posto Vabbè lasciamo perdere Andiamo in battaglia ragazzi Speriamo di vincerla In battaglia In battaglia In vecchio account Dopo 4 giornali Comunque iniziamo Con lo stregone E il cucciolo di draw Mettiamo l'ordine Mettiamo l'ordine di scary Sarebbe bello Sarebbe bello Se c'era pure Le desire Triplo Facciamo caricare le carte Nooo Mi ha lasciato un bellissimo Dai 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 Scari Grande Scari Dai 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 Dormatore Ce la facciamo Per poi Buonissimo Ce l'abbiamo Dormatore Strecone A posto Per il cucciolo Di drago Ragazzi 52 Di danno Gli abbiamo fatto Lui mi ha preso La torre Ora la prendiamo Anche noi Ok Boom Scary boys Io mi vorrei mettere In questo deck A posto di Goblin Di barrile Goblin Che penso Che è Veramente Efficace Mettiamo l'ordine di scary Già subito Orchiri Megasgarro Goblin Dai ragazzi Stiamo giocando Veramente bene Questa partita Vi ricordo Di iscrivervi al canale E attivare la campanellina Per non perdere Altri video Così I miei nuovi video Se li volete Vedete Vedete Sgher Goblin Che combo Sgher boys Cucciolo di drago Aridiamo qui Ok Ok Passiamo Uno Due Tre Ok Dai 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 Attaccate Dai stregone No Combo Ho lasciato Con la torre Speriamo Che il domatore Fa qualcosa Cosino No ragazzi Ho lasciato Due torri Combo issimo Finita la partita Ovviamente No ragazzi No ragazzi L'ho fatto Tre torri Vabbè Buona partita Ragazzi Facciamo L'ultima partita Intanto Apriamo Il bambino Della corona O buona Orde Di scheletri Ragazzi Mancano Un paio Di coppe Arriviamo All'area 8 Ah 2300 Vabbè Ragazzi Finisce Con il video Se vi è piaciuto Il video Lasciate Un like Lasciate Un like Iscrivetevi Se non perdete Altri video Te vedete La campanella Ciao ragazzi